Ho perdonato tutto e tutti coloro che volevano che partissi semplicemente per informazioni poco obiettive e un passaggio della lettera di Dondani all'Arturo Cardenas e sacerdote risultato positivo alla cocaina che ha fidato ai social il suo addio alla comunità di Rivisondoli dove è stato parroco fino allo scorso sabato quando il vescovo diocesano Monsignor Michele Fusco lo ha sospeso temporaneamente da servizio in attesa di nuovi sviluppi su fronte delle indagini. Un ringraziamento a tutti soprattutto le persone più umili vicine a Gesù vi assicuro che vi ho seguito come un padre un fratello un comune mortale siete tutti nel mio cuore scrive Don Daniel il paese alle presepe vivente mi porterà lontano come i magi come la stella polare la Madonna di Portella mi aprirà strade nuove anche il fedele più lontano imparato ad amarlo come un dono di Dio ricordate che dovete amare prete e mandato la Gesù io l'ho fatto con voi mi avete dato tanta forza si sfoghe sacerdote non senza nascondere e dispiacere di abbandonare la comunità ora è il momento di passare la fiaccola a un altro confratello sostenetelo rispettatelo portatelo nel cuore continua Don Daniel rivolgendosi alla Madonna mi hai dato tanta forza e coraggio nei momenti di solitudine di incomprensioni soprattutto di azioni di ingiustizia ciao Rivisondoli vi auguro tanta felicità sarete sempre nel mio cuore ho perdonato tutto e tutti coloro che volevano che partissi semplicemente per informazioni poco obiettive non fa nulla conclude il sacerdote che da ieri si è spostato a Rosero degli Abruzzi dove trascorrerà i prossimi giorni fino a scegliere una comunità religiosa per affrontare il periodo di riflessione come deciso da Vescovo Diocesano che gli ha vietato di risiedere a Rivisondoli ciò per tutelare l'immagine della Chiesa e le sacerdote stesse per ripristinare un clima di serenità Don Daniel la scorsa domenica si era schiantato con la sua Toyota su guardrail della statale 17 mentre rientrava in alto sangro dopo una cena che aveva avuto a Prato la Pelignia gli esami effettuati nell'ospedale di Sulmona avevano fatto emergere la positività alla cocaina per questo la polizia lo aveva denunciato ritirandogli la patente di guida il suo avvocato Gerardo Marrocco ha riferito che il prete non aveva assunto volontariamente la sostanza ma potrebbe averla incerita per errore per questo procura e polizia stanno indagando per verificare come sia stato possibile ma non è tutto sulla vita di Don Daniel si aprono anche altri scenari il sacerdote nel venerdì santo del 2023 avrebbe subito un'aggressione fisica all'interno della Chiesa picchiato con un bastone alle gambe fu costretto a ricorrere alle cure ospedaliere inoltre in passato era stata aperta un'indagine sulle lettere minatorie che aveva ricevuto da un gruppo di fedeli grazie a tutti grazie a tutti